Aisla è una delle associazioni di responsabilità sociale premiate in questo mondiale da Edison e sono qui con Andrea Marquery. Ciao Andrea. Ciao. Andrea è referente del Friere Anissa Giulia di Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Aisla è partner storico della federazione italiana baseball e softball. Abbiamo iniziato con gli arbitri e adesso siamo qui in questo mondiale. Quanto è importante essere affiancati allo sport per voi? Ho avuto la possibilità di portare i miei ragazzi nel campo ed è una cosa veramente fantastica portare questa cosa qui a livello, soprattutto adesso, internazionale. Quindi per noi è veramente una cosa grande. Senti, come ti sei avvicinato a questa associazione? La cosa è nata tantissimi anni fa. Noi con Nadia, quindi la presidente che purtroppo è venuta a mancare 15 giorni fa, quindi siamo molto freschi di cosa. Tramite Andrea Marcon che anche lui purtroppo ha avuto una sua presenza della SLA all'interno di una famiglia. quindi quello che voi chiediamo come associazione è veramente essere qui con voi per poter trasmettere ciò che Nadia e Andrea voleva trasmettere agli altri. Allora sappiamo che Nadia è tua moglie e ha lottato tantissimo per questo fino all'ultimo. Come possiamo aiutare questa associazione? Sicuramente tramite tantissime donazioni che si possono fare attraverso internet. Aisla è presente ormai ovunque ed è molto facile trovarlo nei vari siti internet. Avete bisogno di questi contributi perché cosa potete fare e come potete aiutare le famiglie? Il supporto psicologico è la cosa immediata, poi chiaramente il supporto economico e in qualche maniera noi cerchiamo di sostenere le famiglie che hanno veramente bisogno economicamente. E quindi noi sappiamo che possiamo contare ancora sul tuo grande contributo anche in questo momento. Grazie. Grazie di tutto il lavoro che faccio. Grazie di quello. Grazie. Grazie.